Giornata sienese per il presidente della regione Enrico Rossi che sta proseguendo il suo viaggio in Toscana, un tour istituzionale nei territori. Sono le 8.30 quando Rossi arriva a Rosia per la visita allo stabilimento della GSK, il gruppo inglese produttore di vaccini e farmaci etici. L'incontro in azienda si è tenuto insieme al sindaco di Sovicille Giuseppe Gugliotti e dal primo cittadino di Siena Bruno Valentini. Rossi che ha incontrato da prima i vertici dell'azienda e successivamente una rappresentanza sindacale ribadito di essere interessata a consolidare la presenza della GSK a Siena per affermare la città. Come capitale mondiale dei vaccini l'azienda con i suoi 100.000 dipendenti è già leader in Italia del settore, seconda in Europa ed esporta in 78 paesi nel mondo. Ho visto un'azienda che è molto puntata alla conquista di nuovi mercati, che fa investimenti in immobili, fa investimenti anche in ricerca. Ho preso con soddisfazione e commozione che un vecchio progetto al cui avevo lavorato come presidente, questo dei vaccini contro il tifo e il paratifo è andato in porto e che adesso addirittura hanno trasferito questo know-how alle aziende del Pakistan, dell'India che produrranno questi vaccini e salveranno centinaia di migliaia di bambini, ragazzi, persone che altrimenti sarebbero morte. Poi a Siena e noi in Toscana abbiamo un punto di eccellenza assoluta e credo che vada guardato con attenzione. Tutti dobbiamo lavorare perché si consolidi, si leghi ancora di più al territorio. Poi il viaggio di Rossi è proseguito verso Siena. Qui, presso la sede del Tribunale, si è tenuta la firma del protocollo contro le frode agroalimentari, un accordo siglato tra la Regione e i procuratori della Repubblica di Firenze, Grosseto, Arezzo e Siena. L'obiettivo è quello di rafforzare l'azione di controllo per tutelare il patrimonio enogastronomico toscano, un paniere d'eccellenza che fa gola, hanno spiegato i procuratori, alla criminalità. Dove c'è la ricchezza, infatti, ancora più alti il rischio di infiltrazione e di illegalità. La funzione servente della giustizia nella propria autonomia e indipendenza è quella di tutelare questo settore. Si creano le sinergie necessarie, quindi con l'apporto anche degli enti esponenziali delle comunità territoriali, perché se funziona la giustizia gli effetti positivi di questo ricadono su tutto il territorio e noi vogliamo realizzare questo. La Toscana non è terra di mafia, però è una terra ricca nella quale le mafie si infiltrano per condizionare le imprese che svolgono le loro attività in condizioni di legalità e per condizionarle con metodi che purtroppo tendono a portarle fuori mercato e ad acquisire illegalmente posizioni che altrimenti non acquisirebbero. Alla base dell'accordo per il contrasto alle frodi alimentari c'è la disponibilità della regione a mettere a disposizione delle procure una task force di 50 addetti personale che sarà utilizzato proprio per prevenire e contrastare le illegalità. A selezionare i dipendenti che passeranno in comando alle procure sarà l'Estar. Il modo migliore per tutelare la nostra agricoltura così fondamentale e così basica per la Toscana è quello di aumentare la prevenzione, i controlli e la repressione delle frodi agroalimentari. Noi mettiamo a disposizione 20 persone negli uffici delle procure e dei tribunali più 30 giovani con il progetto di lavoro e formazione. Una questione di non poco conto soprattutto in giorni nei quali c'è preoccupazione generale per la misura europea che favorisce l'arrivo di altre 35.000 tonnellate di olio tunisino in Italia senza dazi. Rossi anche in questo caso ha ricordato che l'importante è la certezza di ciò che entra nella bottiglia e anche in questo senso il protocollo unico nel suo genere in Italia aiuterà a garantire la tutela dei cittadini e dei consumatori. La giornata senese di Rossi si è conclusa in Piazza del Campo seduto sui gradini vicino alla Fonte Gaia il presidente ha incontrato i giovani volontari dell'Erasmus Student Network associazione che conta 49 sedi in Italia e 3 in Toscana ragazzi che organizzano attività, cineforum, iniziative ed eventi per aiutare gli studenti stranieri a conoscere meglio le tradizioni della società italiana. Con le nostre attività ha spiegato il portavoce dei volontari non vogliamo condividere solo l'esperienza dell'Erasmus ma il valore della cittadinanza europea parole che acquistano un significato ancora più importante nel giorno dei funerali delle ragazze toscane decedute nell'incidente del bus in Catalogna durante la loro esperienza d'Erasmus Elena, Valentina e Lucrezia, le tre figlie dell'Europa.